Presidente, in questa giornata di discussione abbiamo sentito molti deputati cercare di giustificare varie voci di spesa del bilancio della Camera. Ora chiedo a lei, Presidente, chiedo anche ai questori, come possa ritenersi minimamente giustificabile il capitolo 1130 del bilancio della Camera dei Deputati per l'esercizio 2016, che prevede di spendere 350 mila euro, i soldi dei cittadini, per coprire l'assicurazione, vita, invalidità e infortunio dei deputati. Stiamo parlando di soldi dei cittadini per assicurare i politici, i parlamentari, i deputati in questi casi, e li vado ad elencare perché questa è l'assicurazione che i cittadini stanno pagando oggi, punture e morsi di animali, malattie tropicali. I deputati vanno in vacanza, vanno all'estero, vanno ai Caraibi, contraggono la malattia e pagano gli italiani. Affogamento, ernie addominali, escursioni in montagna, i deputati vanno in montagna e chi paga l'assicurazione? I cittadini italiani. Colpi di sole. Buone ferie a tutti. Tanto state tranquilli. Se prendete un colpo di sole o un colpo di calore, è scritto qui, pagano gli italiani. Tranquilli. 350 mila euro ogni anno. Ma non è finita. In caso di calamità naturali pagheranno gli italiani. Terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni volcaniche. E questa è la migliore, Presidente. Si mette le mani nei capelli perché anch'io ho proprio questo sentimento quando leggo queste cose. Paghiamo l'assicurazione ai deputati se subiscono un infortunio in stato di ebrezza. Cioè io capisco che questo è lo stato con cui voi scrivete le leggi, evidentemente. Ma chiedere gli italiani di pagarvi l'assicurazione se fate un incidente, se siete ubriachi, è una cosa inaccettabile. E forse questa supera ancora quella precedente. Un'assicurazione se subite dei danni in caso di sommosse, insurrezioni o tumulti popolari. Cioè fate le leggi che effettivamente un po' certe cose le stanno anche stimolando nell'opinione pubblica, sia mai che avvengano. Magari subito un infortunio durante una sommossa e da chi vi fate pagare i danni? Dagli stessi che vi hanno magari malmenato in quel momento a causa del vostro comportamento, che ovviamente noi scongiuriamo. Infine, l'assicurazione per tutti i casi in cui subite un infortunio per colpa grave dell'assicurato. Per vostra colpa grave. 350 mila euro che spendono i cittadini per assicurarvi, mentre fuori, nell'ambito della sanità nazionale, sono stati tagliati dal governo Renzi 4,3 milioni al Fondo Sanitario Nazionale. Mentre ci sono 11 milioni di italiani che rinunciano alle cure o le rinviano. Secondo il rapporto Censys, il 41,7% delle famiglie ha rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria. Il 72% dei pazienti afferma infatti di non potersi permettere le lunghissime liste d'attesi. La spesa sanitaria privata è aumentata del 3,2% sotto il governo Renzi. E chiedete 350 mila euro agli italiani ogni anno per coprirvi l'assicurazione sanitaria. Ora, signori, io credo che se un'assicurazione deve essere pagata, è quella che i partiti devono pagare agli italiani per i danni che con le vostre legge gli arricate ogni giorno. Grazie.